Legge di stabilità che ha visto tante modifiche in aula rispetto al testo iniziale del governo. Partiamo dall'IVA con un aumento di un punto a partire da luglio 2013, ma sarà limitato a quella ordinaria, oggi pari al 21%. Cancellata la riduzione delle aliquote IRPEF sui primi due scaglioni di reddito, quelli fino a 28.000 euro. Buone notizie per chi ha figli a carico. Le detrazioni saliranno da gennaio a 950 euro, dagli attuali 800 euro, e se il bambino ha meno di tre anni, da 900 euro a 1.220 euro. Altro capitolo centrale è quello legato all'IRAP, l'imposta sulle imprese. Le deduzioni per ogni persona assunta saliranno dal 2014 da 4.600 a 7.500 euro, e per i lavoratori con meno di 35 anni da 10.600 a 13.500 euro. Crescono le agevolazioni anche per le aziende che assumono al sud Italia. Definito un fondo per l'incremento della produttività nei luoghi di lavoro, con misure sperimentali da definire. Più fondi a ricerca e sviluppo, meno i sussidi per le imprese, mentre il fondo per una riduzione della pressione fiscale a famiglie di imprese potrà essere attivato, ma solo prendendo i soldi dalle ulteriori entrate della lotta all'evasione fiscale. Per gli esodati c'è coloro senza stipendio e senza pensione, stanziamento di oltre 500 milioni in 8 anni per tutelare 10.000 persone. Pensioni bloccate per quelle superiori a 3.000 euro al mese, per le costose ricongiunzioni di periodi lavorativi, saranno gratuite entro il 2010. Da quell'anno in poi bisognerà pagare i fior di quattrini. Mondo del lavoro per i precari del pubblico impiego, proroga dei contratti fino a luglio 2013, e nei prossimi concorsi pubblici una quota del 40% verrà riservata ai precari con almeno tre anni di servizio. Oltre 1,7 miliardi vengono poi destinati a rifinanziare nel prossimo anno gli ammortizzatori sociali. Sospesi per i primi sei mesi del 2013 gli sfratti di casa per le categorie disagiate, anche se le organizzazioni degli inquilini parlano di un blitz silenzioso in aula, con l'eliminazione del fondo di sostegno all'affitto. Per l'assistenza ai disabili, gravi e persone affette da SLA dopo le reiterate proteste, è varato uno stanziamento di 315 milioni per il prossimo anno.